Come aumentare il tempo? A tua disposizione! Ciao, sono Luca Dallavalle, Health e Performance Coach e dal 2004 studio ed elaboro strategie altamente personalizzate perché ogni persona possa sentirsi forte e vitale ad ogni età. C'è più tempo che vita. Ogni tanto sento qualcuno ripetere questa frase ma poi sistematicamente di fronte alla possibilità di fare qualcosa di nuovo ci diciamo ma io non ho tempo. Diciamoci la verità, il tempo è la nostra risorsa più abbondante e forse per questo motivo non lo sfruttiamo al meglio. Se pensiamo infatti che ogni giornata ha 24 ore sia per chi continua a ripetersi che avrebbe bisogno di più tempo per fare qualcosa sia per chi abitualmente raggiunge i propri obiettivi e termina ogni giornata soddisfatto. Possiamo quindi dire che non è il tempo che ci manca ma che forse non lo sappiamo sfruttare al meglio e che di base quindi c'è una mancanza di organizzazione. Così se di fronte alla possibilità di fare qualcosa che non ha necessariamente a che fare con la forma fisica quindi con l'allenarti o con il mangiare meglio ma ad esempio con l'imparare una nuova lingua, imparare a cucinare oppure rilassarti e trovare dei momenti di svago per te stesso ti nascondi sempre dietro la scusa del nono tempo, alla fine non farai mai nulla di nuovo. Serve quindi cambiare il tipo di approccio, cioè cambiare quella che è la nostra mentalità quella che è la convinzione che il tempo non basti mai e invece dirci che il tempo c'è e che se non ne abbiamo è perché non ci siamo organizzati al meglio. Ma quindi come si fa a organizzarsi al meglio? Serve innanzitutto darsi delle priorità, cioè cosa è importante per te e invece cosa va fatto perché è urgente. Infatti se pensi di poter far sempre tutto è normale poi che il tempo ti sfuga di mano e infine arrivi alla fine giornata che ti sembra di non aver concluso nulla e poi di solito ti accorgi di aver rinunciato alle cose che sono invece importanti per te stesso. Ma per poter avere più tempo per te stesso devi riuscire a ricavarti del tempo. Sembra ovvio e quasi scontato ma ti assicuro che non è così perché quando togli del tempo agli altri spesso interviene quella che è poi diciamo una sorta di senso di colpa che ti fa subito invertire la decisione che hai preso finendo così con scombinare nuovamente le tue priorità per accontentare appunto gli altri e così entri una sorta di circolo vizioso, cioè dove vorresti avere più tempo per te riesci anche a ricavartelo ma poi finisci col dedicarli agli altri e così ti arrabbi pure. E infatti nelle mie sessioni di coaching mi capita spesso di sentire storie come questa Luca guarda io volevo fare attività fisica ma poi sono uscito dal lavoro mi ha chiamato un amico e alla fine siamo andati a fare l'aperitivo ma una volta che sono tornato a casa ero nervoso e arrabbiato perché per dar retta a lui alla fine non mi sono allenato. Allora per sfuggire da questa trappola devi imparare a dire di no infatti è la capacità di dire di no agli altri che ti permette di ricavare più tempo per te e non si tratta di essere egoisti ma semplicemente di volersi bene, di rispettarsi e soprattutto di star lì a proteggere e ascoltare quelli che sono i propri bisogni. Perché ricorda essere attivi e vitali è una questione di scelte?